Vergine, Madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Dalla Santa Casa di Loreto preghiamo il Santo Rosario preceduto dall'Angelus in comunione con tutti quelli che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Oggi presenteremo alla Vergine Lauretana tutti coloro che stanno soffrendo particolarmente le conseguenze di questa pandemia a livello fisico, sociale, economico e psichico. Nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo, l'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed è la concepita l'opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compie in me la Tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. E il Verbo si fece carne. E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio, per la Sua passione e la Sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Madre di Dio, che risplendi di grazia, tu ci accogli nella Tua casa, con fiducia noi veniamo a Te. Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio, Nel primo mistero doloroso, contempliamo Gesù che agonizza nell'orto degli olivi. Pater nostro Piedra di Dio, Pater nostro Piedra di Dio, Amen. Ave Maria, Santa Madre di Dio, e ora pro nobis peccatoribus, e ora pro nobis pecatoribus, e ora pro nobis pecatoribus, benedicta. benedicta. tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Santa Madre di Dio, e ora pro nobis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta. tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria, il secondo mistero doloroso, contempliamo Gesù flagellato. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come noi li mettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria piena di grazie, è il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria piena di grazie, è il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria piena di grazie, è il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria piena di grazie, è il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria piena di grazie, è il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amore. gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. l'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel terzo mistero doloroso, contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dasci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con voi, benedita sui voce tra le donne, e benedita il frutto del vostro ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con voi, benedita sui voce tra le donne, e benedita il frutto del vostro ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, cheia di grazia, benedita sui voce tra le donne, e benedita il frutto del vostro ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, cheia di grazia, benedita sui voce tra le donne, e benedita il frutto del vostro ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con voi, benedita sui voce tra le donne, benedita sui voce tra le donne, e benedita il frutto del vostro ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con voi, benedita sui voce tra le donne, benedita il frutto del vostro ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con voi, benedita sui voce tra le donne, benedita sui voce tra le donne, benedita il frutto del vostro ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con voi, benedita sui voce tra le donne, 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 Gesù. Santa Maria, Vosso ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con voi, benedita sui voce tra le donne, 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 gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù Giuseppe e Maria nel quarto mistero doloroso contempliamo Gesù che sale al Calvadio portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro taglio quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberati dal male. Io ti saluto, Maria, piena di grazie, il Signore è con te. e non ci indurre in tentazione ma liberati dal male. e non ci indurre in tentazione ma liberati dal male. e non ci indurre in tentazione ma liberati dal male. e non ci indurre in tentazione ma liberati dal male. e non ci indurre in tentazione ma liberati dal male. e non ci indurre in tentazione ma liberati dal male. e non ci indurre in tentazione ma liberati dal male. e non ci indurre in tentazione ma liberati dal male. e non ci indurre in tentazione ma liberati dal male. e non ci indurre in tentazione e non ci indurre in tentazione e non ci indurre in tentazione ma liberati dal male. non ci indurre in tentazione ma liberati dal male. Hail Mary full of grace the Lord is with thee blessed are thou among women an blessed is a fruit of thy womb Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Salve Regina, Mater Misericordie, vita dulce do, et spes nostra salve. A te clamamos, esul e spilii e verve. A te suspiramus, genentes e flentes, ina lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converti. Et Jesu, benedictum fructum ventris Tui, nobis post hoc exilium postemde. O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergine, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di Misericordia, Madre della Divina Grazia. Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna d'Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, 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 Madre del Salvatore tabernacolo d'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Rivolgiamo la nostra supplica alla Beata Vergine di Loreto perché ci liberi da questa pandemia. O Vergine Madre, come sei uscita dalla tua casa per portare conforto la Cugina Elisabetta, visita le nostre case e i luoghi di sofferenza. E in questo tempo di incertezza e di forte preoccupazione portaci la tua materna consolazione. Ti affidiamo gli ammalati e le loro famiglie, i giovani, i ragazzi, i bambini, gli anziani e le persone sole. Accogli tra le tue braccia i defunti e conforta i loro familiari. Sostieni i medici, gli operatori sanitari e quanti lavorano per il bene e la sicurezza di tutti. Aiutaci a svolgere il nostro compito con responsabilità, con spirito di adattamento e di solidarietà. Liberaci dalla pandemia che ci sta colpendo, affinché possiamo tornare sereni al nostro lavoro e guardare al futuro con speranza. Per lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. O Maria, allontana da noi ogni male e concedici di godere la gioia del Vangelo, perché nel dono dello Spirito Santo si rinsaldi la nostra fede, si ravvivi la speranza, si rafforzi la carità. Ascolta, o Madre, la nostra supplica. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le supplicche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Invochiamo l'intercessione della Beata Vergine perché ci ottenga la grazia del Giubileo, di vivere Cristo in noi, di vivere anche i momenti di riflessione nello spirito del Giubileo, e preghiamo perché l'incontro di domani qui in Basilica con il Cardinal Ravasi sia un momento di grazia per quanti desiderano vivere il carisma della Santa Casa. Ave, o Vergine degli Angeli, ave, o Madre dei Credenti, ave, o Regina e Porta del Cielo, scenda sul tuo popolo in questo Giubileo una pioggia di grazie, e si apra a tutti la porta della salvezza. Amen. Il Signore sia con voi, e con il tuo spirito, sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre, il nostro aiuto è nel nome del Signore, e gli ha fatto cielo e terra, e benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo. Nel nome del Signore e con la protezione di Maria, andiamo in pace. Prendiamo e grazie a Dio, mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai, Santa Maria del Cammino sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù, Grazie a tutti